Giuseppe Speranza, il suo assessorato è in fermento, il mese di ottobre sarà un mese all'insegna dello sport. Il fermento è dovuto alle tante manifestazioni sportive che abbiamo programmato in autunno e sport. Abbiamo avuto una prima giornata già sabato scorso, giorno 24, alla Litorania, una sorta di spinning di cicletta sulla sala di un lito, molta partecipazione di giovani, di ragazzi, di ragazze, veramente è stata una cosa entusiasmante, una cosa che anche io vedevo per la prima volta. Il prossimo appuntamento è domenica per la crono scalata al Vesuvio, campionato nazionale, infatti il vincitore vestirà la maglia del campionato di crono scalata al Vesuvio, una manifestazione molto attesa in città e molto attesa dagli sportivi, quindi colgo anche l'occasione per invitare tutti gli appassionati di bicicletta e non, cioè tutti gli sportivi della nostra città. Oltre poi alla crono scalata, in metà settimana, giorno 8 che è sabato, anzi il prossimo fine settimana, non questa l'altro, sabato 8 avremo la lunga notte dello sport, sport sotto la luna dove si alterneranno discipline come il wrestling, il pugilato, il kickboxing, karate e tante altre arti marziali. Quindi anche in questo caso colgo l'occasione per invitare tutti. Domenica 9 invece non facciamo in tempo a finire la notte dello sport che domenica 9 avremo l'edizione, se ricordo bene, l'edizione del race Vesuvio, mountain bike. Praticamente ci sarà un giro di mountain bike, una manifestazione di mountain bike che attraverserà tutto lo stradello all'interno del Vesuvio, toccando 7-8 comuni dell'area vesuviana e ci sarà la partecipazione di tanti atleti, addirittura atleti che verranno anche dall'estero, cioè da fuori Italia. Oltre al race bike Vesuvio poi ritornerà il trofeo città di Torre del Greco, il trofeo ciclistico, il sesto trofeo ciclistico con concentramento aviale Europa a Torre del Greco, un'altra manifestazione importante. Ripeto, giorno 6 domenica, giorno 23 ottobre domenica avremo un doppione, nel senso che avremo due manifestazioni contemporanee, la cicloturistica sempre che poi conduce al Vesuvio a parte di Amatori, da parte di Amatori partiranno da Villa Magrina e arriveranno al Vesuvio toccando le varie sedi turistiche della nostra città di interesse culturale. Nella stessa giornata, il giorno 23, con concentramento uscita a Torre Annunziata Nord e poi proseguiranno per via nazionale, il primo raduno cittadino Rosso Corallo delle auto Ferrari, raduno a via nazionale presso il Barra Torre, concentramento a piazza Santa Croce, passeremo per il porto, quindi ci sarà tutto un momento di attrazione intorno a questa, alla nostra amata Ferrari. Dulcissimo punto, giorno 13 novembre di domenica avremo il Coral Duatlon, non più Triatlon perché visto la stagione fredda la parte di nuoto non l'abbiamo potuta praticare. In vista di tutte queste iniziative sono previsti degli interventi alle strade, visto che ravvisiamo in particolare questa mattina a Via Enrico De Nicola la presenza di erbacce e anche strada in alcuni tratti di Sestata. Sicuramente questi appuntamenti sono un'occasione per fare degli interventi anche sul piano ambientale dove c'è qualche erbaccia va rimossa, dove c'è qualche rifiuto dimenticato va rimosso, ho già sollecitato gli uffici e il delegato al settore affinché ciò avvenga. Sono fiducioso perché in altri momenti non abbiamo mai delusoli aspettative. Ringrazio voi di TV City per la puntuale informazione e vi auguro buona giornata e buon divertimento con autunno e sport.